...a torcere a vetture molto più plasolate della sua. Con il numero 52 Michele Lanteri... ...o appoggio... ...a l'unione... un voce, un voce, un voce, un voce, e l'altra il voce, un voce, una regola, l'arguace, un voce, e l'altra droga, va benissimo il voce, praticamente, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il tempo è sbagliato, sì, l'ho invertito. 2.46. 6.9. 6.9. 6.9. 6.9. 6.9. 6.9. 6.9.